La scuola è la scuola. Tra noi due e gli altri ero troppo contento e non riesco ancora a crederci. Sono il nuovo campione olimpico! Qua sul pezzo a piedi ho visto che c'era un bel distacco e ci ho creduto ancora un po' e visto che nei cambi sono riuscito a fare veloce. Dalla discesa c'era proprio un gran distacco e quindi da lì ho capito che era finito. Mi ricorderò la tensione prima della partenza e la felicità all'arrivo. Medals will be presented by member of the International Olympic Committee. Rocco Baldini! Rocco Baldini! Rocco Baldini! Grazie a tutti.